Ecco io lo so, lo so che in questa piazza ogni anno abbraccio tante persone care, tante persone che ho imparato a conoscere in 21 anni. 21 anni che noi ci troviamo e 21 anni che a noi viene negato un processo, un pubblico dibattimento in un'aula di tribunale. Il processo per l'uccisione di Carlo non si deve fare. Ecco è una cosa che è difficile da accettare. Io mi sono portata un amico tra i tanti che sono qua in piazza, me ne sono portata un'altra, è già stato ricordato oggi, su la testa, diceva, su la testa. Lo diceva Carlo. Ecco di 21 anni, tante volte mi hanno chiesto chi era Carlo. Ci hanno chiesto e noi sempre abbiamo risposto dovrebbe dirlo lui. Noi non vogliamo parlare al posto suo. Possiamo vedere che cosa ha fatto nella sua giovane vita. ha rifiutato di fare il militare, ha voluto fare il servizio civile perché era contro la guerra. Per prima cosa contro la guerra. Quando c'è stata la guerra nella Eccingoslavia voleva partire con la comunità di Sant'Egidio che andava a portare coperte, vestiti, generi di sostegno. Non armi. Andava a portare generi di aiuto. Non armi. Le armi non aiutano nessuno. E poi Carlo era amico di molti, di molti immigrati. Faceva facilmente amicizia e soprattutto con persone che si trovavano in difficoltà. E allora che cosa pensava Carlo? Pensava naturalmente che i migranti fanno parte di noi, che siamo tutti, tutti insieme, un genere umano. E quindi era contro le frontiere, contro la guerra, contro le frontiere, per essere a fianco dei più deboli. E poi Carlo è andato. Prima di noi non ha potuto andare in Eccoslavia perché era ancora minorenne. Carlo è andato a Torino alla manifestazione per sole e baleno. Ha incontrato il movimento notale. Prima di noi. Prima di noi. E quindi terza cosa che possiamo dire. che Carlo era d'accordo col movimento notale e con chi oggi difende quei territori. Era d'accordo con quei ragazzi che oggi finiscono in galera perché non ci finiscono i delinquenti veri, finiscono ragazzi come loro. Brava! 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 Ma no! E non sappiamoci quello che dice i maggiori. Sulla testa! Diciamolo tutti insieme! Tutti insieme! Sulla testa! Basta! Sulla testa! Basta! A? Ok! Biais? C'è? A? Biais?